La città della galleria si affaccia sul panorama di Valle Lanzi, dove si trovavano gallerie sotterranee in pozzi di estrazione che facevano parte di un altro complesso minerario, quello di Lanzi, a tutto, che insieme alla valle prende il nome da una popolazione di minatori provenienti dalla Germania che mangia a lavorare qua a Campiglia da Cosimo I dei Medici, che nella seconda metà del 1500 decise di riprendere le attività estrative dopo l'interruzione post-arrivo di estenaggio di ospitare i minatori e le loro fatture. In questo momento il Fremio Stato, ilGI, il Fremio Stato, il Fremio Stato, la fine del 256, e quello che si mette a noi è il Castello di Roccasanzea. Poi gli minatori e i fonditori costituentano le conti di Milio Arsesca intorno alla domandina. che è una famiglia signorile proveniente da Pisa, precise e fatto una costruzione.